BluGru è crescita nel blu, quindi cerchiamo di crescere rispettando il mare, rispettando la natura, rispettando anche coloro i quali lavorano col mare. Parlare di BluGru non può esimerci dal continuamente parlare di aspetti che riguardano il sociale, l'economico e ovviamente l'ambientale. È molto importante, in questi giorni di crisi economica, riportare la economia mediterranea basata sulla bluGru, in order to generate new jobs, innovazioni, con la scena di privati e pubblici settori. Il progetto di Maestrale è legato con l'energia bluGru e le nuove tecnologie che vengono ora, per ottenere i flori dell'energia che vengono dal mare. Abbiamo il progetto di ricordare tutte le base case studies all'interno del mondo, e cerchiamo di capire dove sono applicabili nella zona mediterranea. Abbiamo il progetto di creare un clustro mediterraneo, che avranno insieme i ragionatori che potenzialmente possono essere interessati a essere involvati in questo campo, e creare un nuovo negozio per l'energia bluGru. Il progetto di PROTEUS è inserciare la scena di ricordare all'interno del Mediterraneo, identificare, monitorare e potenzialmente tracere tutto ciò che c'è sul livello. Il progetto dell'energia bluGru consiste in realizzare l'industria delle ricordazioni di ricordazione in tutte le strumenti, da le strumenti delle strumenti, le strumenti delle strumenti, le strumenti delle strumenti e le strumenti turistiche. Il progetto dell'energia bluGru è una cosa che vogliamo compilare con le altre attività. Quindi possiamo aiutare tutti i altri progetti, e anche aiutare e aiutare il progetto dell'energia bluGru. Credo che questa iniziativa per lanciare la comunità bluGru è davvero grande. Nel tempo in cui viviamo, le strumenti delle strumenti sono cruciali per tutto ciò che facciamo. Quindi, se un progetto potrebbe aiutare i nostri risultati, o se possiamo vedere in un altro progetto che c'è un modo potenziale che non dovremmo essere parte di questa procedura. Iniziativa 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 Iniziativa